ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi un video un po particolare perché voglio fare un vlog insieme a voi inizio comunque su hero siege così almeno mentre io gioco anche modo di parlare e desidero ringraziare silma che mi posta spesso le sue risposte sui commenti qui che mi ha regalato questo gioco quindi lo ringrazio molto sono sempre cose che mi commuovono poi non so come ringraziare e niente è il tema di questo di questo vlog è questo voglio iniziare non si possono acquistare io inizio col piromante insomma e inizio a giocare ma non è e lo scopo diciamo è mostrarvi questo gioco ma è parlarvi di una questione che mi interessa molto perché ho avuto modo di parlare con un carissimo amico tempo fa e lui mi ha detto guarda secondo me il tuo canale è un po fermo perché spesso magari non non fai diciamo scusate intanto guarda i tasti non te li prepara i giochi spesso di giochi così al volo e poi la gente la gente si stufa io in realtà non è non è vero che io non me li gioco prima perché spesso li riprovo un'oretta da solo prima di registrare però insomma questo mi ha fatto anche pensare ho detto magari la gente vuole vedere i miei video cerca il mio canale per magari c'è chi li guarda i miei video per scoprire nuovi giochi e non gli importa se io sono bravo oppure no oppure altre persone invece pretendono che il mio canale insegni come giocare a un gioco in quel caso il discorso cambia parecchio perché devo giocarmeli molto di più allora io ho fatto nella parte community di youtube se riesco poi ve lo linko se esiste un link a questo sondaggio ho fatto questo sondaggio dove io chiedo a voi che cosa vorreste che io facessi per il futuro vorrei dare una spinta al canale a settembre farò magari un pochino più vedere su anche su facebook e vorrei un pochino più diciamo specializzarmi e il sondaggio in pratica cosa vi chiede il sondaggio vi chiede se volete più video meno video o va bene così com'è e vi spiego entrambe le possibilità allora più video significa io al momento pubblico il lunedì mercoledì al venerdì un video diverso spesso quando capita di avere magari un uno speciale o piuttosto che un episodio di una serie tendo a pubblicarlo un altro giorno quindi non il lunedì non il mercoledì non il venerdì ma magari il martedì il giovedì o il sabato a volte è successo ho trovato anche una chiave vediamo sembra figo comunque come gioco perché forse si può parire qua ok allora in pratica cosa cosa significa più video magari mettere delle rubricche farne di più ma comunque continuare così come sto facendo quindi quando capitano dei giochi come può essere un gioco come questo magari ce lo proviamo al volo una volta che comunque me lo sono visto il gioco è fatto così poi io non sono una cima in un determinato genere faccio abbastanza schifo un po in tutti ma questo magari può anche divertire però insomma non è che io poi vengo qui vi faccio la wiki e così stessa cosa i giochi magari con i più complessi me li provo un po poi li proviamo insieme insomma c'è questa esperienza e come mi diceva uno uno di voi del sedersi con un amico e provare il gioco insieme a casa come abbiamo fatto tutti comunque magari da da giovani o magari anche l'altro giorno l'altra possibilità è quella di fare meno video cosa significa passare da tre a video a magari due o anche uno soltanto ma fatto bene nel senso che io non ho grandi montaggi nei miei video io alla fine quello che vi mostro è il gioco senza tagli a parte quando ultimamente ho iniziato un pochino a farlo quando ci sono magari delle attese in cui dobbiamo aspettare che succeda una determinata cosa o i tempi sono eccessivamente morti quindi un video a settimana piuttosto magari soltanto due ma molto esplicativi vi mostro magari un gioco complesso e ve lo spiego bene con un montaggio un pochino più ricercato che mi chiede comunque del tempo un video che vi appaghi di più magari di alcuni giochi molto interessanti perché spesso vi porto dei giochi che sono carini ma non è che abbiano un gran successo insomma io poi sono convinto che se facessi soltanto giochi quelli strafighi farei molte più visualizzazioni ma non ho mai cercato questo così come se facessi fifa o football manager o altri giochi del genere credo farei molto di più di quello che faccio ora ma come ho già detto io non cerco questo quindi però ecco questa scelta del fare meno video significa andare a scremare molto di più i giochi e portarvi semplicemente quelli veramente da dire wow questo è quello che è il sondaggio in pratica ovviamente è dura da scegliere vedo che le votazioni sono già avviate e avete già un voto praticamente pari dei due delle due scelte non ha votato nessuno almeno fino a questo momento poche dopo il sondaggio continua così come fai ma c'è chi vuole meno video e chi vuole più video quindi io lo chiedo a voi adesso lascerò attivo questa cosa adesso sto anche valutando per la la fine di agosto di sospendere i video prendermi un attimino di di pausa magari preparare già qualche qualche video per per l'inizio di settembre fatemi sapere anche di questo se vi può vi può interessare ovviamente è dura sia aumentare i video che diminuirli perché diminuirli comunque magari la gente si stufa visto fate volete più video volete magari scoprire più giochi sicuramente portarvene di migliori magari potrebbe solo i migliori potrebbe magari incentivare le serie quindi magari presentarvi il gioco e magari tenere aperta un giorno per le serie quindi magari un solo video settimana di un bel gioco il gioco della settimana che è uscito e magari poi negli altri giorni magari un giorno alla settimana farvi portarvi avanti una serie o più serie insomma le possibilità sono tante io ogni anno mi mi sforzo a innovarmi ma non ce la faccio perché ho sempre continuato sono mai cinque anni che continuo col mio stesso format con i miei tre video a settimana non cambia mai nulla a volte trovate video belli a volte video brutti insomma a volte trovate dei mega giochi altre volte no io veramente vi invito a distruggere la vostra tastiera e commentare qua sotto e dirmi che cosa ne pensate vi faccio un esempio io ho in cantiere un video sul nuovo age of wonders diciamo che abbastanza un gioco di nicchia non è proprio un 100 per cento indie però è sicuramente di nicchia e quello sarebbe un gioco meritevole magari un gioco come riverbound che ho portato l'altro giorno quel lack and slash in pixel grafica magari non è così figo come magari è quello o un foundation ad esempio se ve lo ricordate quei giochi in cui veramente se visto mi avete commentato tantissimo quei giochi dove sono morto e avevo completato la quest comunque va bene finito e niente quest completata quindi molto bene e niente che dirvi distruggete la tastiera a forza di commentare fatemi sapere che cosa ne pensate questo è il video del venerdì ho deciso di sacrificare un giorno per parlarvi di questa cosa perché avevo assolutamente bisogno di parlarne con voi in modo da confrontarci e sapere esattamente che cosa volete perché spesso tendete a non sbilanciarvi quindi io vi invito a lasciarmi il commento e poi ho già dei giochi vi faccio l'ultimo esempio io ho pronto e lo pubblicherò probabilmente all'inizio della settimana prossima ho un paio di giochi uno dei due giochi è il cluedo che è fighissimo come gioco perché l'ho provato l'ho giocato è un bel video bello lungo in cui gioco il cluedo e spiego le regole ok quello è un gioco che probabilmente è di nicchia non è che uno dice figo perché il cluedo lo conoscono tutti però vi spiego bene le regole pensate questo magari con un gioco ultra figo quindi ovviamente l'idea di fare meno video implica una cura maggiore nel montaggio e nella spiegazione poi io rimango aperto e poi mi farò un'idea non è che il sondaggio che vince farò diciamo non farò la scelta che vince però è importante anche sapere che cosa ne pensate di quello che è stato i pregi che sono stati pregi difetti del lavoro che io ho fatto fino a questo momento quindi ragazzi vi invito commentate tantissimi in tantissimi qua sotto e fatemi sapere che cosa ne pensate alla prossima ragazzi ciao ciao